Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, in direzione Bologna, 3 km di coda tra Valdarno e Incisa Reggello. Per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Aglio e in direzione Roma tra Calenzano e Valdarno. Sulla variante di valico, rallentamenti tra il Bivio A1 e Aglio in entrambe le direzioni. Sulla A11 per incidente, 3 km di coda tra Prato Est e Pistoia in direzione Pisa. In direzione Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Monte Catini e code in uscita a Lucca Est. Sulla A12, code a tratti tra il Bivio per la A15 e Massa in direzione Livorno. Sulla FIPILI per lavori, 2 km di coda tra Ginestra ed Empoli Est in direzione Mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!